salve benvenuti nel mio nuovo interattivo io sono zahira questo mio canale quest'oggi l'interattivo è il seguente perché non mi chiama abbiamo tre varianti il cuore rosso prima variante cuore giallo seconda variante cuore verde terza variante allora questo è un video speedy video veloce quindi diciamo non andremo ad analizzare nulla faremo la domanda e vedremo il risponso mentre voi scegliete la variante vi dico che ho preso un po di carte miste ho preso un arcano maggiore un arcano diciamo una carta del rider white poi ho preso gli angeli rispondono gli angeli del cuore la carta degli oracoli insomma ho fatto un po così un misto di carte appunto per andare a vedere il perché questa persona questa data persona non vi chiama possiamo parlare di chiunque un amico un fidanzato un ex una persona che ci piace un datore di lavoro qualsiasi persona può rispecchiare questa domanda anche se io diciamo ho ho ideato questo interattivo per una domanda relativa all'amore però voi potete adattarla come mi pare a chi più vi piace io l'ho adattata a una domanda di una persona comunque che abbiamo nel cuore insomma che c'è stato un allontanamento e per cui noi ci chiediamo perché questa persona non ci chiama va bene e vogliamo saperne il motivo allora io penso che voi avete già scelto se non l'avete fatto bloccate il video e prendetevi tutto il tempo che vi occorre io prima di iniziare vi voglio ricordare che gli interattivi sono energie generali per cui prendete solo ciò che vi appartiene lasciate stare ciò che non riconoscete perché siete tanti le energie sono tante quindi prendiamolo come un intrattenimento poi se volete approfondire una situazione che vi sta a cuore nell'info box ci sono i miei contatti e potete appunto richiedere un consulto personalizzato e poi volevo anche dirvi che gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento li vediate allora questo è il cuore rosso mi raccomando se vi piace il video vi piace l'interattivo vi piace anche il risponso vi siete riscontrati insomma se volete mettetemi un like e iscrivetevi al canale attivate la campanella se vi fa piacere così fate crescere il canale e noi presto potremmo raggiungere uno step successivo intanto grazie a tutti coloro che mi seguono grazie un bacio grande a tutti i miei iscritti vecchi nuovi e a tutti coloro che si appresteranno ad iscriversi allora la prima carta che ho preso è un arcano maggiore che io intendo un po' come energia diciamo generale della domanda quindi questo arcano è molto importante perché dà un po' l'imprinting a questa stesa viene la carta dell'imperatore al dritto quindi qui abbiamo un'energia molto molto forte di una persona comunque con un carattere molto imponente molto prepotente c'è una persona che vuole sempre avere il dominio sugli altri quindi un bel tipetto va bene quindi vediamo perché questo imperatore non ci chiama abbiamo un asso di spade abbiamo la carta del gran signore delle sibille gli oracoli ci dicono pronti ok allora gli angeli del cuore ci dicono lascia andare il tuo ex insomma già questo è tutto un dire cosa ci rispondono gli angeli sei pronto quindi qua vedete angeli rispondono e gli oracoli rispondono siete pronti pronti perché cosa andiamo a vedere allora qua intanto vi dico che si parla di un'energia molto che vi ha fatto molto soffrire in questo periodo quindi diciamo che voi avete bisogno di ripulire questa vostra energia contaminata da chi da questo imperatore questo imperatore che vi ha veramente fatto probabilmente molto innervosire molto arrabbiare anche pure soffrire perché questa è un'energia di una persona molto arrogante molto prepotente molto piena di sé ego riferita quindi insomma con lui non si scherza si fa quello che dice lui punto e basta quindi intanto perché non vi chiama con questa energia io vi direi che non vi chiama perché è molto orgoglioso e lui non fa mai il primo passo non è mai una persona che chiede scusa non è mai una persona che come dire si relaziona in maniera equa lui vuole sempre che gli altri facciano per loro e anche per lui perché lui è come l'uomo che non deve chiedere mai no vi ricordate la pubblicità del demi no lui è così ecco lui non deve chiedere mai nulla perché tutto gli è dovuto tutto gli è dato quindi questa persona perché non vi chiama perché lui ha questo carattere è una persona molto piena di sé che non ammette mai i suoi errori quindi anche se voi vi siete allontanati avete avuto un litigio questo non mi meraviglierei anzi che non solo non vi chiama ma vi ha pure bloccato sta pure facendo un non contact non mi meraviglierei allora nonostante poi comunque questa persona a voi si è mostrato come un gran signore quindi comunque voi pensate vi siete invaghite o innamorate non so la vostra situazione di una persona che si è mostrata vedete essere un gran signore avere una certa un certo fascine un fascino un certo stile ma in realtà lui è un imperatore si avrà pure un fascino perché comunque qua parliamo sempre di un imperatore però un imperatore molto anche terra terra perché comunque come diciamo indole come carattere perché una persona comunque che non si mette mai in discussione abbiamo anche qui un asso di spade vedete l'asso di spade comunque comunque vedete questa persona con il suo comportamento ha proprio come dire troncato di netto una situazione con voi proprio con un atto di forza lui vuole continuare ad avere questo atto di forza verso di voi quindi non vi chiama perché lui vuole è una sorta di braccio di ferro che fa con voi lui vuole appunto vuole avere questo eccesso di volontà cioè lui proprio vuole cioè lui farà morirà pure magari soffre pure per non chiamarvi ma non vi chiama e non vi chiamerà almeno per il momento perché appunto lui ha questa prosopopea di sé vedete anche come appare lui come a dire ma io so io gli altri non so niente insomma no vedete che anche il modo in cui si vede questa figura no del gran signore insomma di una persona comunque che non si abbassa a sottomettersi diciamo così quindi questo asso di spade ci parla anche di anche un desiderio sessuale che questa persona comunque verso di voi non mi stupirei che è anche geloso o che comunque lui abbia una forza di come dire di voler in qualche modo sottomettervi ecco lui vuole che voi vi sottomettiate a lui che siate voi a chiamare lui il solito moschettino che mi viene a così nelle carte ecco allora quindi qua gli angeli del cuore mi dicono proprio di lasciare andare questa persona qui mi parlano di un ex quindi dovete lasciare andare questa energia perché questa energia di questo imperatore a voi vi sta facendo veramente soffrire io qua vedo una persona chi insomma fa la domanda che soffre si dispera vedete si dispera vedete quindi dovete pulire la vostra energia e questo è il momento giusto per farlo perché siete pronti per poter fare questo step appunto di di rigenerarsi la carta appunto numero 48 del gli oracoli ci parlano anche qua di pronti che cosa ci dice questa carta questa carta ci dice fiducia nuove cose da dare o ricevere e ci parla di relazioni intime profonde ci parla di amore di amicizia di legami armoniosi quindi a cosa siete pronti voi voi siete pronti ecco questa volta l'ho fatta secca moschito allora voi siete pronti a questo a nuove relazioni a nuove amicizie a nuove cose da ricevere e che appunto vengono dal profondo del vostro cuore quindi perché non vi chiama non vi chiama perché è un arrogante presuntuoso orgoglioso vuole sottomettervi col suo modo di fare e quindi non vi chiama anche se tutto sommato io vedo in questa persona verso di voi una forza dei sentimenti una forza anche sessuale cioè lui vorrebbe avere con voi questo no l'asso di spade c'è un inizio sessuale una forza un vigore sia sessuale che di sentimenti però lui è la persona che non si muove perché lui si sente superiore e quindi non si non vi chiamerà ma gli oracoli cosa vi dicono vi dicono lasciate stare questa persona che vi ha fatto soffrire e vi fa soffrire e vi dice voi siete pronti per nuove situazioni per nuove amicizie nuovi amori nuovi incontri veramente sinceri e profondi questo è quello che è venuto fuori dalla variante numero uno il cuore rosso se vi siete riscontrati e vi siete appunto riconosciuti mettetemi un like se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo ve ne sarei grata benvenuti a chi ha scelto il cuore giallo seconda variante allora come ho detto la prima variante sono interattivi prendetele con le pinze non possono risuonare su tutti è solo un gioco di intrattenimento poi se volete analizzare una situazione che vi sta a cuore negli infobox ci sono i miei contatti sarò lieta di aiutarvi allora la prima carta è la carta che guida un po tutta l'energia dell'assesa quindi perché non mi chiama è un arcano maggiore ecco è uscito alla carta del mondo che metteremo qua quindi perché non vi chiama la persona che avete pensato la carta del diavolo la carta dell'imeneo vedete molto bella questa carta girare in tondo la carta degli oracoli la carta degli angeli del cuore vi dicono meriti amore e la carta degli angeli rispondono vi dicono gli angeli aspetta quindi andiamo a vedere di che cosa parla questa stesa allora intanto qua questa carta degli oracoli ci dicono di tornare a rifare le stesse cose riflettendo in meglio quindi il rapporto potrebbe essere buono e prolungato se si riflette meglio e se non si ritornano a fare le stesse cose quindi non bisogna sempre girare intorno qua dice girare in tondo vedete non bisogna sempre girare intorno alla stessa situazione perché non vi chiama questa persona questa persona non vi chiama perché vedete lui ha l'energia del diavolo vedete esce il diavolo quindi è in dubbio che lui ha una passione sfrenata per voi è in dubbio che lui ha anche un'attrazione molto forte nei vostri riguardi e non solo lui ha anche un sentimento un sentimento d'amore qua abbiamo l'imeneo che ci parla appunto unione e legame solido però questa persona vuole in qualche modo sottomettervi manipolarvi ecco lui ha un'energia appunto del diavolo quindi lui vuole creare in voi una sorta di dipendenza nei suoi riguardi quindi questo è un motivo per cui non vi chiama l'altro motivo è che questa persona quando si allontana da voi si allontana anche perché si svaga si fa un po' gli affaretti suoi si esce con gli amici va a qualche cena non lo so non so quello che può fare che ne so incontra qualche amica insomma non si risparmia nelle nuove conoscenze nei svaghi e divertimenti quindi lui perché non vi chiama primo non vi chiama perché è un po' opportunista si vuole fare un po' i fatti suoi quindi insomma aspetta che siete voi a fare la prima mossa così lui ha più tempo per svagarsi perché non ci dimentichiamo che nonostante lui abbia questa unione forte con voi è sempre un diavolo si parla di comunque un'unione marsana di un'unione di dipendenza quindi è una dipendenza reciproca lui sa che voi non potete fare a meno di lui e quindi ritornate da lui però questa volta siccome la carta degli oracoli ci dicono non rifate le stesse cose non ripetete gli stessi errori perché sennò questo rapporto non va a migliorare quindi questa volta lui non vi chiama perfetto voi aspettate non chiamate lui perché tanto lui non vi chiama non perché non vuole chiamarvi ma perché si deve un po' fare i fattacci suoi quindi siccome qua le carte degli oracoli del cuore mi dicono che voi meritate amore quindi siete degni di essere amati come si deve voi mettetevi lì e aspettate perché tanto questa persona prima o poi si farà viva lei e poi sarete voi a decidere con il vostro libero abito cosa farne di un soggetto del genere ok allora questo era il cuore giallo seconda variante se vi siete riconosciuti in questa variante mettete un like se non siete ancora iscritti al mio canale fatelo il canale ha bisogno del vostro sostegno per poter crescere allora andiamo adesso alla seconda variante il cuore verde benvenuti a chi ha scelto il cuore verde allora gli interattivi sono sempre validi in qualsiasi momento voi li vediate poi vi voglio anche dire che comunque gli interattivi generalizzati non sostituiscono una lettura personalizzata quindi se avete un problema o un qualcosa che volete analizzare negli infobox ci sono i miei contatti sarò lieta di aiutarvi quindi andiamo alla stesa perché non mi chiama la prima carta che ho scelto sono i tarocchi della zingara sono dei tarocchi sono degli arcani maggiori guideranno un po' tutta la stesa quindi questa carta sarà molto importante al fine del risultato non mi chiama viene fuori quindi l'energia di una imperatrice va bene che metteremo qui poi abbiamo la regina di coppe vedete qua l'energia femminile la fa da padrona io non so sono entrate le zanzare mi sento pungere va bene poi abbiamo il messaggero quindi qua ci sono notizie in arrivo abbiamo respirare quindi abbiamo bisogno di rilassarci di meditare di avere pazienza e fiducia abbiamo il vero amore e la carta degli angeli ci rispondono nel prossimo futuro quindi perché questa persona che avete pensato non vi chiama allora questa persona al momento non vi chiama perché evidentemente lo spaventate lo spaventate o questo rapporto che ha avuto o che ha o che vorrebbe avere con voi lo spaventa troppo allora questa carta respirare vedete ci parla appunto di avere pazienza di attendere di avere fiducia in sé e di meditare molto perché il cuore ha bisogno di tempo per aprirsi quindi si avranno le ricompense se si ha pazienza allora a me mi viene da dire che questa persona comunque prima o poi si farà vivo lui vi chiamerà questo è poco sicuro adesso non vi chiama ma vi chiamerà perché qua abbiamo il messaggero vedete che ci parla appunto di notizie positive che arrivano da lontano quindi questa persona è sicura che vi chiamerà lui voi per lui rappresentate proprio la regina di coppe lui sa che voi siete innamorate e lui è innamorato di voi perché questa carta simboleggia sempre l'amore per una donna e la donna di coppe la regina di coppe è una donna sincera innamorata una donna saggia piena di virtù buona una sposa fedele una donna che sa dare amore e sa anche governare una famiglia quindi lui questa persona ha delle intenzioni con voi di voler fare un'azione evidentemente ancora non vi chiama perché è spaventato vuole essere sicuro perché il suo cuore ha bisogno di tempo per aprirsi lui ancora non ha realizzato completamente questa diciamo come dire questo questa consapevolezza di quello che lui prova per voi ma è veramente lì a farlo perché la carta che guida la stesa di questa variante la numero 3 è l'imperatrice intanto ci parla di azione quindi questa carta ci dice anche che ci sarà un'azione presto verso di voi quindi non vi chiama però vi chiamerà presto e poi ci parla anche di una donna che entra nella vita di questa persona che avete pensato quindi voi siete entrata prorompente nella vita di questa persona e siete così tanto agli occhi suoi perché lo stato di femminile dell'imperatrice è trionfante è magnifico cioè voi fra l'imperatrice e la regina di coppe a quest'uomo lo avete proprio tramortito lui è molto spaventato dalla vostra personalità dal vostro fascino e da questo diciamo vostro splendere così e quindi ha un po' paura e vuole prendersi vedete con questa carta respirare vuole prendersi del tempo vuole avere vuole attendere vuole attendere con pazienza che appunto lui possa riconoscere il vero amore perché lui ancora non lo sa ma presto ve lo dirà qui è il vero amore da parte di lui verso di voi e voi verso di lui perché abbiamo anche la regina di coppe quindi e tutto questo succederà nel prossimo futuro quindi molto presto allora questa è una stesa veramente meravigliosa io mi complimento per chi l'ha scelta quindi questa persona non vi chiama perché ha paura siete troppo troppa roba per lui ha paura di questo sentimento così forte che lo spaventa e vuole prendersi un po' di tempo per venire verso di voi ma verrà e vi chiamerà perché ci sono proprio c'è la carta delle notizie quindi se questa variante vi è piaciuta e vi siete riconosciuti mettetemi un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io ho finito questo mini interattivo spero che vi sia piaciuto mi raccomando fatemi sapere nella community tutti i riscontri le vostre opinioni se volete qualche interattivo se volete che io vi faccia qualche vostra richiesta io lo sapete vi accontento tutti quindi io adesso vi ringrazio di essere stati qui con me vi saluto e vi do appuntamento al prossimo interattivo un bacione virtuale dalla vostra Zaira ciao